E' stata fatta anche una lettera che è stata mandata di 150 esperti al Ministro e di tutte le associazioni che si battono per la sicurezza stradale, per i diritti dei pedoni, per anche delle associazioni familiari delle vittime della strada. Questa riforma così com'è ci porta indietro di vent'anni perché impedisce di utilizzare gli autovelox che sono un elemento deterrente sotto i 50 km orari. Toglie i poteri ai comuni per fare le ZTL, per fare le ciclabili, quindi va anche contro la mobilità sostenibile. Io oggi ho chiesto ai colleghi e me l'hanno consentito in capigruppo di portare fuori sacco questo documento perché martedì forse ci sarà il voto finale. Noi speriamo di no, ma questa è una grande mobilitazione, una battaglia trasversale di civiltà che deve coinvolgere tutti. Dobbiamo ricordare che a Roma lo scorso anno sono morti 43 pedoni in prossimità delle strisce pedonali, anche in questi giorni ci sono state altre vittime. Questa è una strage, una strage continua e questo codice veramente non recepisce quella che è una priorità per la sicurezza delle persone e per tutto quello che tante associazioni stanno facendo anche a Roma. Io ringrazio tutti i colleghi che l'hanno anche sottoscritto questo documento, li ringrazio perché comunque diamo un segnale forte. Adesso impegniamo il nostro Presidente a rivolgersi al Sindaco e a far valere davvero queste istanze importanti attraverso l'Anci e tutti i tavoli possibili anche nel Parlamento sicuramente.